Dopo il sit-in organizzato dagli abitanti della frazione di Longobardi, durante il quale l'assessore comunale Giovanni Russo aveva promesso interventi a breve, l'amministrazione di Vibo Valencia si è mossa per cercare di risolvere una volta per tutte il problema di dissesto idrogeologico che causa lo sprofondamento del manto stradale all'ingresso di Via Roma, la strada che attraversa la frazione e che permette di raggiungere in minor tempo le zone delle marinate. Sono state effettuate una serie di verifiche su come sono stati realizzati i primi lavori e che comunque non sono bastati ed è stato ordinato alla Direzione dei Lavori, che è esterna, di far partire l'attività di ripristino che doveva iniziare già lunedì scorso. Ma ciò non è potuto accadere a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Si sperano un miglioramento per poter finalmente metterci mano. Intanto, nel Consiglio Comunale di ieri, è ribadito quanto già affermato lo scorso 11 dicembre e cioè che nel tratto che va dall'incrocio con la statale 522 fino al centro abitato di Longobardi c'è un problema di messa in sicurezza del costone a Monte e a Valle e che per questo l'amministrazione, che ha reperito circa 5 milioni per la messa in sicurezza del territorio ha voluto destinare 920 mila euro proprio a questo tratto per la messa in sicurezza definitiva e per la reggimentazione delle acque.